Il 5 gennaio partiranno i saldi in Italia anche per la nostra provincia, Confcommercio Marchionord ha fatto una stima di quello che sarà la spesa sia del cittadino medio che della famiglia, come vede lei da direttore questo periodo, quello dei saldi, che comunque risente anche un po' di un inverno che anche a livello di temperatura è partito un po' più a rilento. Sì, il problema dei saldi è tanto troppo l'anticipo con cui vengono organizzati, fortuna ha voluto che negli ultimi anni sia aumentata la consapevolezza da parte delle regioni di dover iniziare insieme, in passato questo non avveniva per cui c'era la fuga dei consumatori che ad esempio dalle marche andavano in Emilia Romagna che naturalmente anticipava prima per prendersi anche i consumatori pesaresi. L'uniformità dell'inizio dei saldi è importantissimo ma è altrettanto importante posteciparli, cioè non è pensabile normalmente e poi anche in questi tempi di cambiamenti climatici con l'inverno che ancora non è arrivato già fare i saldi di fine stagione, cioè di una stagione che ancora non è arrivata, non è iniziata. C'è un tentativo nella provincia autonoma di Bolzano di differenziare l'inizio dei saldi tra le città e le montagne proprio per andare incontro al cambiamento stagionale. La Confcommercio prevede un dato positivo per questi saldi, circa 130-140 euro a persona e quindi noi confidiamo che comunque i saldi possono essere un'occasione per le imprese commerciali di vicinato, sperando che i consumatori non spendano tutti i soldi sui grandi player del commercio online o nella grande distribuzione. Cioè i saldi debbono essere, come lo erano una volta, uno strumento per consentire al piccolo commerciante, al negozio di vicinato di smaltire, si diceva una volta, le rimanenze e quindi non farsi carico dei costi del magazzino. Approfittiamo dell'occasione per invitare anche gli ascoltatori di Rossini TV a consumare, ad acquistare nei negozi di vicinato, nei quartieri, nei centri storici, nei borghi della nostra provincia perché la vita e la sopravvivenza delle nostre città dipende anche dalle abitudini di consumo, dalle modalità di consumo dei cittadini. Rispetto all'anno precedente ci si aspetta un segno positivo? Si aspetta un segno positivo, già lo dicevamo in occasione delle festività natalizie, sia per quanto riguarda il turismo che per quanto riguarda il commercio, c'è stato un aumento di circa a livello nazionale, mezzo miliardo di euro nelle tredicesime e anche un aumento dell'occupazione, almeno questi sono i dati ufficiali INPS e ISTAT, che ovviamente mettono in circolo più risorse. È aumentata anche la fiducia da parte dei consumatori, mentre è in calo la fiducia da parte delle imprese, peraltro, e quello che noi auspichiamo è che questo 2024 si inizia con i saldi, ma che con il movimento turistico che nel 2023 ha salvato la ricchezza nazionale, lo ricordiamo, con il calo delle esportazioni, con il calo della produzione industriale e manifatturiera, l'unico settore che ha salvato il PIL italiano è stato il turismo. Confidiamo che questo possa avvenire anche nel 2024. Grazie a tutti.